Seconda seduta del Consiglio Metropolitano di Napoli, l'Assemblea della città metropolitana che dal 1 gennaio prenderà il posto della provincia nell'amministrazione del territorio. Presieduto da Luigi De Magistris come sindaco della città metropolitana, il Consiglio ha oggi approvato il regolamento provvisorio delle sedute. Formati anche i gruppi consigliari e nominati alcuni dei capigruppo. Il secondo Consiglio Metropolitano si comincia a entrare nel vivo, oggi un atto importante, abbiamo approvato il regolamento provvisorio che disciplina il funzionamento del Consiglio Metropolitano dell'area metropolitana di Napoli, quindi un primo atto molto importante, sono stati individuati i gruppi consigliari, nominati i capigruppo, si entra nel vivo del lavoro e la settimana prossima ci sarà un'altra riunione.